Buongiorno e benvenuti in questo unissimo home vlog, io sono Alessia e ho avuto un nuovo home vlog Allora raga, oggi è il 16 agosto e sono, ed è mezzogiorno e il 59, mi sono appena svegliata letteralmente E ieri sera stavo urrando i Vampire Diaries, wow che novità E sostanzialmente, quindi in pratica, adesso probabilmente finisco l'episodio perché ieri sera mi stavo addormentando mentre lo guardavo Quindi ho detto ok vabbè smetto, visto che comunque ho sonno, dormo e lo finisco domani Ed è stato quello che ho fatto, comunque sono alla stagione 6, episodio 12 per chi me lo chiede L'ho visto compulsivamente in questi giorni, lo sapete perché non lo so, mi sta più comodo sul cellulare Lo guardo più spesso, poi mia madre ha preparato il pranzo quindi adesso mangio anche Nel mentre che appunto mangio guardo le Vampire Diaries Ok raga allora ho già mangiato, ho messo a posto la roba che ho usato Adesso sto andando in camera e poi mi dico cosa devo fare, devo registrare, editarli e postarli E programmarli perché si postino poi nei giorni in cui io sono a Mirabilandia perché sì Starò due giorni a Mirabilandia, in realtà sto un giorno a Mirabilandia Poi dormiamo in un hotel e l'altro giorno andiamo a Quafanda, quello che ho capito E sto con mia cugina appunto E nulla raga quindi ovviamente vi vloggerò però devo preparare appunto questi tre video Quindi adesso devo un attimo pensarci però dopo pranzo mi prendo un attimo una pausa Un video probabilmente sarà un cleaning with me perché me l'ho chiesto da tanto e la mia camera è un disastro Ragazzi allora rido per non piangere vi giuro perché oggi devo uscire con una mia amica Alle 5 e un quarto mio padre mi viene a prendere perché usciamo dalle 5 e mezza fino a... Fino alle 8 più o meno E quindi voglio piangere perché io devo fare tutte quelle robe che ho detto prima delle 5 e mezza Un attimo mi do una sistemata perché così appunto un video magari non lo registro proprio così in questo stato E il primo video che registro sarà appunto il cleaning with me Vabbè ho già spoilerato che video è però vabbè pace Poi il secondo video sarà questo vlog qua Quindi questo vlog qua diciamo è uno dei video, uno dei tre video E mi devo inventare un altro video Posso fare un prepariamoci insieme? A posto ragazzi sono proprio a posto Quindi nulla adesso inizio a... cioè mi sistemo un attimo, due secondi Mi levo meglio i capelli e poi registro appunto il cleaning with me Ok raga sono stanchissima Ho pulito la mia camera e ho anche registrato un video Adesso sto due secondi qua sul letto visto che sono alle 2 e un quarto Verso alle 3 più o meno così Mi metto ad editare il video, quello che ho appena registrato Così che appunto già l'ho posto A parte che editare posso farlo anche stasera dopo cena Quindi non è proprio un grande problema Ok raga allora io ho appena finito di mettere a postare il video Perché l'ho editato e adesso appunto lo sto mettendo a postare Adesso gli faccio anche la copertina visto che avevo fatto appunto le foto prima Per la copertina quindi faccio la copertina La metto sul video così sono a posto E poi niente il prossimo video lo devo registrare verso le 3 e mezza, 4 più o meno Perché sarà quello l'orario in cui mi inizierò a preparare Visto che comunque ho ancora tempo Perché devo appunto, mio padre mi viene a prendere alle 5 e un quarto Quindi più o meno ce l'ho il tempo Anche se comunque io preferisco prepararmi una barra due ore prima Specialmente quando registro perché generalmente ci metto un po' di più E niente quindi tra poco poi verso tipo le 3 e un quarto così Vado a farmi la doccia Raga sono alle 3 e 46 quindi ora mi devo sbrigare E devo appunto iniziare a registrare e a prepararmi Ok raga allora Adesso ragazzi mia madre prima mi aveva comprato tipo per merenda Questi cosettini qua che noi mangiamo sempre tipo quando siamo in autostrada Che secondo me sono un po' più buoni che sono questi Che c'è tipo i cosi Tipo le, non so tipo, sono tipo dei biscotti sì Salati con il formaggio e il salame Tipo te fai dei panini con queste robe e sono buonissimi Quindi adesso vi mangio questi prima di uscire Comunque sono già pronta A poi uscirò e prepariamoci insieme Non so se vi è già uscito oppure se vi uscirà Perché non so quale sarà l'ordine Raga sto andando E nulla Ci vediamo più tardi Ok raga allora Io sono tornata a casa da un pozzettino Perché subito dopo che sono andata appunto in centro Con appunto la mia amica Sono andata a cena con il mio padre Adesso sono tornata da un pezzetto Infatti è mezzanotte e cinquantatré E io mi sono completamente scordata che dovevo editare i video e tutto quanto Mi vorrei dare uno schiaffo da sola Sia questo vlog che il video del prepariamoci insieme Non so quale uscirà prima Però comunque vabbè Sarò fino a tardi ad editare Probabilmente fino verso le 2, le 3 così Perché devo editare i due video Che fastidio che mi do Cioè certe volte proprio mi dà un fastidio le cose che faccio Vabbè comunque nulla Spero che il video vi sia piaciuto comunque Non lo lasciate nel piacere in su Iscrivete il canale Attivate le notifiche per non perdere i miei video Così che arriviamo subito ai 20.000 Noi vi mando un bacione E ci vediamo domani con un prossimo video Ciao